3 2 3 Orica, potremmo ti accidere, non fai! Non riprende! Cazzo, l'avevo detto che ho giocato troppe volte a Metal Gear Stacca, stacca! ragazzi almeno non si è ripreso più dopo aver giocato Phantom Pain TD, go stop TD good dog go boom se il video vi è piaciuto andate nella pagina facebook e ne vedrete tanti inediti che non pubblicherò mai qui a meno che non siano raccolte come queste e poi ricoprete il video precedente perché cavolo non puoi non recuperartelo si parla di giochi per smartphone emulate su Game Boy Advance Game Boy Advance originale roba figa che devi sapere per forza al prossimo video questa cosa mi fa un sacco di piacere perché vedere che in pochi bit puoi giocare sul tuo cellulare o appunto sul Game Boy questi titoli è fantastico perché sono dei titoli che non... grazie a tutti grazie a tutti Grazie.